Allora, occhio di lingua, le regole le conoscete, sarete ben dati, quindi privati della vista e con la lingua dovrete indovinare qual è l'oggetto che vi porgerò davanti al viso. Va bene, cominciamo da Max Giusto, in contatto con la lingua. Ti sento particolarmente, ecco qua, devo dire che immaculato ti dona, veramente, veramente. Ah, ho fatto tanti programmi qua Max, mi ha l'amore. Allora, cominciamo, cominciamo dal primo oggetto. Ehi mamma mia! Nooo! Nooo! Ma no! Ma no, ragazzi, perché proprio a lui glielo dai? Fuori la lingua. Aia, aia! Piano, piano, piano! Che scherzo! La lingua! La lingua! Ma se lo sta mangiando, ma che? Flauto! Flauto, flauto! Il flauto! Allora, andiamo avanti con il secondo oggetto. E seppre io? Sì. Buono! Ah, no, no, no! Tiri fuori la lingua. Questa, eh! Attento! Ah! Che cosa? Gli ho fatti i baccanali con la uva! L'uva! 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 Prossimo oggetto! Ok! Allora! Qui, 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 qui! Allora! Ma che fa schifo? No, no, no! Lingua, lingua! Allora! Venga, venga, venga! Venga, venga, venga! Venga, venga, venga! No, no! Come farà indovinare questo? No! No, 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 no! Vai! Attento! Prova! Prova! Lingua! Segui! Segui! Vai! 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 Guarda che! Vai! Tutto, tutto, tutto! Prova a capire che cos'è! Vai! Vai! Prosegui! Un metro! Bravo! Un applauso a Max Giusti! Silvia delle Donatella, vieni! Vai, Silvia! Vai, Silvia! Vai, Silvia! Vieni qui in posizione! Allora, primo oggetto per Silvia! Sì? Vabbè, ah! Dai, comincia malissimo! Si può fare, dai, lo riconosce subito! Si può fare, dai, lo riconosce subito! Tira fuori la lingua! Calmo! No, dai! No, mettiti davanti che così mi... Mi fa un po', mi inquieti! Ma è puzza di... Puzza di... Da bestia! Da bestia! Da bestia! Guarda, non sei lontana, non sei lontana! In qualche modo... Allora, questo è di quei giochini delle paperotte tipo... Sì! Che metti nel... Precisamente un... 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 Non è una papera! Dai! Non è una papera! È un... È un maschio di... Eh, quindi? Quindi un pa... Un pa... Un po... Un pollo! Un pollo! Bravo! Secondo oggetto! Cos'è? Vuoi dire? No! Eh! Cos'è? Cos'è? Dai! Perché ridete? Proviamo! Che roba è? Proviamo! Tira fuori la lingua! Perché ridi? No, no! Rido perché? Un attimo! 3, 2, 1! Vai! Ha fatto un rumore strano! Tira fuori la lingua! Ti può aiutare! Tira fuori la lingua! Guarda, veramente! Fuori la lingua! Oh, ho capito! Un attimo! Un attimo! Un attimo! Un attimo! Un attimo! Quale? Ti aiuto io! Ti aiuto io! Una? Una... Dai! Come si chiama la coca, tipo? Eh... Nacchera! Nacchera! L'ultimo oggetto è questo! No! Ma che sei scemo? Ma no! Vai, vai! Sei pronta? Ma ce l'hai con me, per caso? No, no, no! Allora, tira fuori la lingua! Ho capito! Eh, capirai! Allora... Questa la voglio vedere bene! No ti metterà avanti! Che cos'è? Un putale! Una schifezza! Sicuramente! No, guarda! Ma... Eh! Ci sono i peli! Puoi vedere che ti... Che? È un... È un gomito! È un gomito! Eh! Ma il suo gomito! È un gomito! Un applauso a Silvia! Bravissima! Allora... Mamma mia! Un applausi! Un applausi! Un applausi! Un applausi! Un applausi! Un applausi! C'è chi piace! 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 Ci sono persone che apprezzano anche il gomito! Il tuo gomito piace a Parecchio! A Parecchio! Sì sì! Bravo che lei abbia fatto una faccia un po' di... Spavita! Per i piedi! Per i piedi! Eh va... Aburibi.